Tutto in 90 minuti. Vittoria, la terza nel formato casalingo, la settima complessiva in dieci gare giocate e Balzo in seconda posizione in classifica. Continua insomma la favola dell'audace in eccellenza. Il 3-0 inflitto domenica scorsa al Bolfetta sul sintetico amico del Manzichiappoli ha consentito alla formazione barlettana di perfezionare il sorpasso in graduatoria proprio i danni dei biancorossi di Renato Bartoli, sconfitti per la prima volta in questo campionato. Non c'è una ricetta magica. Prima molti hanno parlato di fortuna, però credo che sia riduttivo dire che è solo fortuna perché bisogna dare i meriti anche a uno staff tecnico, uno staff dirigenziale e ai giocatori stessi che hanno affrontato ogni gara nel miglior modo possibile. 21 punti collezionati di Cuben 12 nelle quattro esibizioni disputate in trasferta. Niente male per una matricola che per la prima volta nella propria storia si sta cimentando nel campionato di eccellenza. La squadra guidata da Beppe Iannone è già a buon punto insomma nel cammino che porta alla salvezza ma per il direttore sportivo Nico Gianluisi e per tutto l'entourage dell'audace è ancora prematuro alzare l'asticella delle ambizioni. Il nostro obiettivo resta la salvezza quindi ora noi pensiamo... Pensate a buon punto. Siamo concentratissimi a raggiungere la salvezza poi quello che arriva, arriva. Squadra che fa bene non si cambia la società però non sarà a guardare dalla finestra dicembrina del mercato. Andremo a puntellare qualcosina soprattutto per quanto riguarda gli under. E domenica nel derby tra matricole l'audace sarà di scena sull'ostico campo di Ugento. L'Ugento però è una squadra che gioca molto bene. È d'accordo Picci che l'ha affrontato e l'ha battuto? Esprime un buon calcio e speriamo di affrontarli nel modo giusto e di portare qualcosa a casa.